Ciao a tutti bimbi, benvenuti in questo fantastico video. Io sono Gaia e ho tre anni. Oggi sono molto arrabbiata col covid, perché non mi fa andare a scuola, non mi fa andare a scuola di ballo, non mi fa andare a scuola, non mi fa andare dai miei nonni, non mi fa andare dai miei amici, non lo sopporto più. Lo sapete? I miei nonni mi mancano tantissimo, perché li amo con tutto il mio cuore, e non voglio che si ammalano anche loro, perché li voglio abbracciare, ma non voglio. Perché, quando se ne va questo brutto virus, li voglio abbracciare tantissimo. Anche la scuola mi manca, perché mi manca Fatima, mi manca Domenico, mi manca Chiara, perché con loro giochiamo sempre, facciamo i lavoretti sempre. Perché questo virus, perché non se ne va, perché non se ne torna a casa sua? Chi l'ha mandato? Anche la scuola di ballo mi manca, perché ballavamo con tutte le mie amiche. Ma adesso non si può, perché non possiamo andare da nessuna parte. L'altro giorno siamo andati a comprare il giubbotto per Manuele, e mi sono dovuta mettere la mascherina per tutto il tempo, e mi sono, mi sono, mi imprudeva tutta la faccia, e mi sono dovuta d'infettare le mani. E l'odore era bruttissimo. Io sono più disperata. Non lo voglio più questa cosa. Ma lo sapete? Lo sapete qual è la cosa più brutta? è fare il tampone, che dovete infissare qualcosa nel naso, che fa malissimo. Ti prego, vi prego, fate andare via quel brutto virus. Io adesso vado a dormire, e domani io quando mi sveglio non voglio più vedere quel virus.